Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Cari amici, in questi giorni di agosto voglio ricordare con voi un grande evento che ebbe luogo 70 anni fa, la proclamazione da parte del Papa Pio XII del dogma dell'assunzione, ovvero del privilegio della corporea assunzione in cielo della Beata Vergine Maria. La promulgazione del dogma avvenne il 1 novembre 1950 con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, ma Pio XII ne diede all'annuncio il 15 agosto, giorno in cui da tempo immemorabile si celebrava la festa dell'assunta, ed è per questo che è opportuno e bello parlarne in questi giorni in cui ricorre il settantesimo anniversario della proclamazione del dogma. L'assunzione è il transito della Beata Vergine in anima e corpo dalla terra alla vita celeste. Questa verità di fede scaturisce dalla maternità divina e della integrità virginale del corpo di Maria. Essendo Maria madre di Dio e immune dal peccato originale, non conveniva che fosse sottomessa alla corruzione della morte che è una pena del peccato. Il dogma dell'Immacolata è la premessa, quello dell'assunta è la conclusione di una coerente visione dei privilegi della madre di Dio. Pio XII nella enciclica in cui proclamò il dogma spiega Cristo con la sua morte ha vinto il peccato e la morte e sull'uno e sull'altra riporta vittoria in virtù di Cristo chi è stato rigenerato sopranaturalmente col battesimo. Ma per legge generale Dio non vuole concedere ai giusti il pieno effetto di questa vittoria sulla morte se non quando sarà giunta la fine dei tempi. Perciò anche i corpi dei giusti dopo la morte si dissolvono e soltanto nell'ultimo giorno si ricongiungeranno ciascuno con la propria anima gloriosa. Ma, continua Pio XII, da questa legge generale Dio volle esente la Beata Vergine Maria. Ella per privilegio del tutto singolare ha vinto il peccato con la sua concezione immacolata e perciò non fu soggetta alla legge di restare nella corruzione del sepolcro né dovette attendere la redenzione del suo corpo sino alla fine del mondo. La Madonna quindi fu miracolosamente assunta al cielo. Ma vi è a questo proposito un altro punto importante da ricordare. Tutti i catechismi spiegano la differenza tra assunzione e ascensione. Gesù, essendo uomo Dio, salì al cielo per virtù propria, mentre la madre, che era creatura, sebbene la più degna di tutte, salì al cielo per virtù di Dio. Questo non significa, naturalmente, che Maria salendo al cielo si sia materialmente appoggiata agli angeli che, supplendo la sua impotenza, la trasportarono in cielo. Gli angeli intorno all'assunta non servirono a sostenerla nel volo, ma solo a seguirla in uno straordinario corteo. Il corpo della Madonna era divenuto un corpo glorioso e quindi non più sottoposto alle leggi della gravità, ma trasfigurato, sottile, agilissimo, irraggiante luce e bellezza. La voce dei popoli fin dai primi secoli celebrò l'assunta, che può definirsi la più popolare festa della cristianità. La festa dell'assunta è una delle più antiche presso i cristiani, così come la sua devozione. Santo Stefano, re d'Ungheria, che fu il primo re cristiano a consacrare il suo intero regno alla Madonna, scelse come giorno proprio il 15 agosto, da allora festeggiato da tutti e chiamato il giorno di Maria, regina di Ungheria. Un altro sovrano, Luigi XIII, re di Francia, il 15 agosto 1638 volle imitare il gesto di Santo Stefano consacrando a Maria tutto il suo regno e il 15 agosto divenne ed è tuttora festa nazionale in Francia. I conquistatori spagnoli, per devozione all'assunta, volero chiamare Assunción, Assunzione, la capitale del Paraguay. Ma la testimonianza più solenne e palpabile della loro fede dei popoli ce l'hanno tramondata nelle loro memorie storiche. Basiliche, chiese, cappelle, altari, dipinti, monumenti, quasi mille cattedrali e basiliche dedicate all'assunta, tra cui la cattedrale del Cremlino, cuore della Russia. Tutti questi monumenti stanno a proclamare al mondo intero la credenza unanime dei secoli cristiani. Forse è nel campo della pittura che l'Assunzione ha avuto la sua maggiore esaltazione artistica. Basti un nome, quello di Tiziano, il cui capolavoro l'assunta è riprodotto in un'infinità di immagini. L'opera è una grande pala d'altare dipinta da Tiziano tra il 1516 e il 1518 per la chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. Si dice che Canova, dopo averla contemplata, la definisse il quadro più bello del mondo. Vi si vede Maria che sale come sospinta da uno slancio incontenibile verso le altezze dei cieli, mentre l'Eterno Padre in tutta la sua maestà le scende incontro. In basso gli apostoli raccolti attorno al sarcofago vuoto levano lo sguardo verso la Madonna che sale in volo verso il cielo. Qualche anno dopo un altro grande maestro, Antonio Allegri detto il Correggio, nel contemplare a Venezia l'assunta del Tiziano volle immortalarla anche egli nella cattedrale di Parma di cui affrescò la cupola dedicandola all'assunta. Alcune di queste opere d'arte sono incentrate sul momento della dormizione di Maria, il punto di partenza, potremmo dire, dell'assunzione. altre raffigurano il punto di arrivo, l'ingresso della Madonna in Paradiso e la sua incoronazione come regina del cielo e della terra. Il dogma dell'assunta è infatti strettamente legato ad un'altra verità di fede a cui Pio XII dedicò una bella enciclica, la regalità di Maria. Maria è la madre di Dio, è immacolata, è assunta in cielo, è regina del cielo e della terra. E noi vogliamo proclamarne tutti i privilegi a suo onore e gloria. Grazie. Grazie. Grazie.